Olivero Toscani insieme a Sergio Rizzo per presentare il suo ultimo libro che è uscito l'11 giugno in libreria Caro Avedon, la fotografia in 25 lettere di Toscani ai grandi maestri è un esercizio per parlare di fotografia visto che ormai la fotografia è un'arte che sanno fare tutti del resto tutti sanno scrivere, però i grandi giornalisti sono pochi, i grandi scrittori sono pochi, gli autori sono pochi e la fotografia è esattamente uguale, non è perché uno fotografo è un fotografo, assolutamente no e siccome la grande maggioranza dei fotografi sono fotografi perché fotografano, non perché pensano anzi è una categoria molto semi-analfabeta, è già tanto che io riesco a parlare perché normalmente i fotografi non sanno parlare sono proprio ignoranti, siamo una categoria di ignoranti, quindi volevo dimostrare, volevo vedere se so almeno scrivere allora ho scritto un libro E com'è stato il suo esercizio? Faticosissimo, io spero, sono sicuro di scrivere meglio di come uno scrittore fotografa Se il silenzio è la qualità più preziosa di una fotografia, qual è la qualità più preziosa di un giornalista? Onestà, onestà intellettuale, onestà La crisi della carta stampata è anche la crisi delle edicole Le edicole stanno morendo, così come le librerie indipendenti Attenzione, una progressiva diminuzione dei fatturati legati a dei fatti che sono dei fatti Da una parte la stampa perché c'è internet, è quello che sappiamo Dall'altra parte le librerie perché hanno la concorrenza di Amazon e delle grandi catene Quindi, diciamo, è un sistema che un paese serio, civile E soprattutto un paese che dovrebbe essere la culla della cultura occidentale come l'Italia Farebbe bene apporsi e non con dei provvedimenti estemporanei Bisognerebbe concepire un piano organico per sostenere la cultura Basta pensare che tutti i distanziamenti del settore cultura in Italia Mi pare che sia un quinto di quello che stanzia la Francia